Allora coach, in questi casi qui cosa si prova di più? Soddisfazione per aver battuto un Atmo che sembrava virtualmente già in B e forse ci dovrà ora rinunciare o magari un vago rammarico perché avesse giocato sempre così l'Avis Touristar chissà cosa avrebbe potuto fare, magari essere promosso lui? C'è grande rammarico, stagione soprattutto per il giro di ritorno abbiamo buttato via un sacco di punti con le squadrette, chiamiamole squadrette, di bassa classifica e questo l'abbiamo pagato, stasera sì, contento per la vittoria perché è sempre importante con la prima in classifica però avrei voluto giocarmi il campionato in questa partita e c'erano tutte le possibilità di farlo peccato, pazienza, ci si riproverà in futuro a vincerlo Certo, senti, cosa ti ispira a livello di commento il fatto che forse è migliore in campo correggimi se sbaglio, sono stati quelli che sarebbero i due vecchietti della situazione ovvero il centrale capitano Donini e il palliggiatore Ott Gianu che avete recuperato peraltro in extremis perché non c'era altri da potersi schierare in pratica Un applauso subito a Gianu che l'abbiamo recuperato proprio ieri sera è venuto a fare un allenamento ieri sera, eravamo in difficoltà con i palleggiatori uno assente, l'altro infortunato, grazie a lui, lui secondo me è migliore in campo e poi queste partite qua non serve che presento io Donini lo sappiamo tutti che giocatore è, che giocatore è stato queste partite lui non le perde